Buongiorno, buongiorno dal telegiornale scientifico e dell'ambiente. Non ci sono soltanto scienziati impazziti dalla felicità dopo la scoperta dei sette pianeti, sette abitabili. La notizia fa sognare in realtà un po' tutti il grande annuncio della NASA su una ricerca mondiale e dove l'Europa è in primissima fila, apre scenari immensi. Hanno trovato delle similterre, una cosiddetta zona abitabile di una stella. Ma non è così vicina, non sono così vicine a queste similterre, ci separano poco meno di 40 anni luce. Vuol dire che se un giorno riusciremo mai a viaggiare alla velocità della luce, ci metteremo comunque 40 anni per arrivarci. Silvia Rosa Brusini. Mai visto niente di simile prima. Sette pianeti simili alla Terra che orbitano intorno ad una debolissima stella. Sette intorno ad una nana gelata, un sole tra i più comuni e banali della nostra galassia, uno di quelli all'inizio snobbati dalla ricerca di mondi alieni e che invece si è rivelato proprio il posto giusto per trovarne tanti. Si chiama Trappist One, costellazione dell'acquario, 40 anni luce da noi. Un sole da niente, massa appena all'8% rispetto al nostro. Qualche mese fa intorno a Trappist One erano stati visti tre pianeti, poi la staffetta e l'alleanza tra gli scienziati che rappresentano la voglia di guardare sempre più lontano. Ed ecco la scoperta storica annunciata dalla NASA. Sette pianeti quasi appiccicati alla loro stella, ma forse sono ancora di più, in un'alleanza gravitazionale che li tiene anche stretti stretti tra loro. Li hanno trovati con grandi telescopi come quello spaziale Spitzer e il gigante europeo VLT sulle montagne cilene, ma non sono sempre stati lì, pare che arrivino da lontano, da luoghi della galassia dove l'acqua era abbondante e alcuni l'hanno portata con sé. Tre mondi su sette avrebbero oceani, perché si trovano nella cosiddetta zona abitabile, non troppo vicini al loro sole, che anche se piccolo, emette raggi X e radiazioni ultraviolette pari a quelle del nostro. Il telescopio spaziale Hubble ha già iniziato a studiare le atmosfere delle sette simil terre trovate con il sistema dei transiti, notando cioè che la luce debole del sole diminuiva periodicamente perché coperta in parte dal loro passaggio. Un mini sistema planetario simile al nostro, ma popolato da mondi sorprendentemente diversi. Uno zoo spaziale che sta sorprendendo gli astronomi ormai abituati alle sorprese. Il miglior laboratorio che si possa sognare per studiare l'evoluzione dei piccoli pianeti alieni. E finora i pianeti extrasolari scoperti sono 4.700, ognuno ha le sue caratteristiche. Gli studi continuano, ma questi magnifici sette sono davvero speciali. Sentiamo perché da uno dei massimi esperti mondiali di pianeti extrasolari, il professor Alessandro Sozzetti dell'Istituto Nazionale di Astrofisica. Come ce li possiamo immaginare? La cosa interessante è che hanno raggi e masse molto simili a quelle della nostra Terra, ma sono probabilmente tutti molto diversi. In che cosa? Una delle peculiarità fondamentali è che, al contrario dei pianeti del nostro Sistema Solare, rivolgono sempre tutti la stessa faccia alla loro stella. Che vuol dire? Questo significa che c'è un emisfero sempre illuminato e uno sempre a buio. Come la Luna? Esattamente. Il fatto che abbiano sempre la stessa faccia rivolta verso la loro stella, che significa? Questo è potenzialmente un problema. La stella irraggia solamente un emisfero e un emisfero è sempre al buio. Dal punto di vista dell'impatto sulla potenziale sviluppo di una biologia complessa e di vita intelligente, è una domanda alla quale si sarà in grado di rispondere solamente nel futuro. Guardando l'atmosfera? Sì. Infatti il prossimo passo decisivo è ricercare in dettaglio evidenza di un'atmosfera attorno a questi pianeti. Per lei che studia i pianeti da sempre, i pianeti extrasolari, perché questa scoperta è così eccitante? Eccezionale perché per la prima volta siamo stati in grado di misurare la composizione di un pianeta delle dimensioni e massa della nostra Terra, anzi in questo caso sette, non soltanto uno, tre dei quali in questo sistema sono alla distanza giusta per poter potenzialmente avere acqua allo stato liquido sulla loro superficie. E com'è la composizione dei pianeti? Sono probabilmente molto simili in composizione alla nostra Terra, potrebbero essere lievemente più leggeri dal punto di vista della densità e quindi avere importanti componenti d'acqua. Se sette pianeti sono stati trovati intorno a una piccola e debole stella, ma quanti saranno nella galassia? Probabilmente c'è almeno un pianeta per stella, abbiamo 100 miliardi di stelle nella nostra galassia e abbiamo centinaia di miliardi di galassie nell'intero Universo, quindi la probabilità che ci sia vita è probabilmente altissima. Ma chi sono, cosa fanno i cacciatori di pianeti abitabili? Quelli del programma SETI, della NASA, erano considerati un po' dei sognatori, cercavano segnali di vita extraterrestre, hanno avuto finanziamenti in costante calo, ma oltre al segnale delle T di turno che ha fatto arricchire Hollywood, da sempre si guarda l'universo con degli strumenti sempre più tecnologici per scovare pianeti vivibili e i team per questa ricerca sono davvero tanti, Cinzia Dicianni. I più grandi campioni fra i cacciatori di pianeti extrasolari sono iper specializzati, molto costosi e usano strategie diverse. a seconda che si muovano sulla Terra o nello spazio. Il più vecchio è VLT, il Very Large Telescope dell'ESO, operativo dal 1999, domina i limpidi cieli del Serro Paranal nel deserto di Atacama, in Cile. Nel 2003 è arrivato Spitzer, l'osservatorio spaziale della NASA. Ha esaurito l'elio che raffreddava i suoi strumenti, ma resterà al lavoro ancora un po'. E lassù con lui c'è Kepler, lanciato nel 2009, che riesce a setacciare qualcosa come 145.000 stelle nelle costellazioni del Cigno, della Lira e del Drago, per cercare indizi minuscoli come le loro variazioni di luminosità. Nel 2012 nelle Canarie è arrivato Harps N, uno spettrografo di grande precisione installato sul Telescopio Nazionale Galileo, una collaborazione fra INAF, ESO e Stati Uniti. Ma le più grandi speranze per il futuro sono affidate senz'altro al James Webb Telescope, che sarà lanciato nel 2018 grazie a una collaborazione mondiale, erede del mitico Hubble, col suo specchio di esagoni di beriglio ricoperti d'oro, che si dispiegherà come un origami, osserverà lo spazio negli infrarossi a un milione e mezzo di chilometri dalla Terra. Però il più grande occhio che il mondo volgerà al cielo sarà IELT, European Extremely Large Telescope, che nel 2024 sorgerà nel Serro Armazones in Cile, 39 metri di diametro per il più grande telescopio ottico nel vicino infrarosso mai costruito, un prodigio che spinge al limite le nostre capacità tecnologiche alla ricerca di nuove terre abitabili.